Musica Salve popolo, noi siamo le Double C e questo è il nostro canale Musica Ragazzi eccoci tornate con un nuovo video Esatto Abbiamo deciso di fare questo video che è incentrato sulla fine della scuola In particolare l'ultimo anno, quindi l'ultimo anno di medio, di liceo e di università E come avrete modo di vedere è molto diverso, diversissimo Quindi niente, vi lasciamo Lasciate un like Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto Noi ogni volta ci scordiamo di dirlo E niente, via col video Musica Non ce lo faremo mai Io ho una pagina intera su Parigi Ma non è un anno come si suonava La devo ripetere in francese, io non sono un cavolo di francese Sono soltanto comando da Pelle C'è ma Pelle Noelle E comanzava, sava, sava, sava Ma non scherziamo Il ballo del cuo qua Come si canta il canale? Era facile, era temi, do Comunque, andate, parliamo di tema Il tema? Francese, musica e temi dati Tema, dobbiamo copiare tutto Ci facciamo 50 temi piccoli Lento il vocabalario Si chiama il filo dentro il vocabalario? Le formule? Una mitragliatrice di... Ci mettiamo l'apertucera qua E forse siamo soltanto Eh Mario, per favore Io già l'avevo detto Mi puoi mettere a metà? No, senti Angela Aspetta Io mi devo mettere per forza al tuo posto Perché devo copiare da Peppino Pamela, ti stai zitta per favore? Io sto a metà Già l'ho deciso Non mi interessa Mi metto al tuo posto Tu devi stare dietro di me Hai capito? Ma dobbiamo fare scusato Dobbiamo fare il powerpoint Sì, però ho 5 pagine di powerpoint No, 3 Ah, giusto Per adesso ho scritto Paris è una villa Secondo te basta? Sì, secondo me basta e avanza Allora io ho scritto 44 temi Io sono 40, vabbè Allora ho scritto Uno sull'attualità Uno sul rapporto con i genitori Rapporto con l'azia Rapporto con la nonna Rapporto con il cane Poi abbiamo giro in classe Sport Sport Adesso facciamo questa pagina 3 Pagina 47 Pagina 48 Si occuperebbe una mappa Così ci ricordiamo dove In che pagina sono Certo, prendi una penna Mario, levati da le folle Non serve niente Allora qui facciamo Come dico io Innanzitutto I cessi stanno ai lati Perché a nessuno Gli frega un cavolo Al centro I secchioni Medi quelli mezzi bravi Che possono fare Magari i corsi di matematica Ci siamo? Zitta Devi stare zitta Tu Angela Stai in primo banco Perché? Non si pari nemmeno Tu e tu e tu Non serve niente Sei inutile per la classe Inutile per l'ecosistema Poi te la passiamo Va bene E' tutto finito Quanto hai preso tu? Nove Io dieci all'ode Wow Bravissima Allora dobbiamo iscriverci insieme al liceo Ovvio Obbligatorio Nella stessa classe Io direi scientifico Si ci sono tutti i ragazzi Carini Esatto perché linguistico Solo femmine No Scientifico Scientifico Pamela È finito tutto Finalmente Mi mancherai tanto Anche tu Ci vediamo quest'estate Me lo prometti Sicuramente Sì Ciao Ciao Quante materie ti mancano alla laurea? Ma all'incirca una quindicina A te? 24 Ok ragazzi il video è finito Speriamo che vi sia piaciuto Esatto Vi ricordo di iscriverci qua sotto Se voi siete Categoria media Licea o università Esatto Così sappiamo anche che pubblico ci segue Io penso sulle medie Primi anni di licea Medio diciamo E niente Noi ci vediamo al prossimo Mi viene da ridere Sono appena iniziate le vacanze Lo sai? E noi non abbiamo fatto niente Claudia Non ce la vediamo mai La ninnana No 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 Comando Non lo dire Comando Dai Io so soltanto Comando Dai basta Fino adesso ho scritto soltanto Parì Ma tu hai una bacia di c***o Ma non guardarmi Lo ridi Si dicevo Dai ti fatta bene E' una ruta famela C'è successiva Adesso Torità Allora 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 Un aggetto Ti Te Mi fa N Ho Am Tuli Grazie a tutti.